Buonasera cari amiche e cari amici, c'è molta prudenza per quello che riguarda il rientro di Mike Mignan. Le prossime partite sono tutte fondamentali, a partire da quella, chiaramente il Monza, ma lui non ci sarà, poi Atalanta, Fiorentina e Tottenham. Riuscirà a recuperare Mike Mignan? Come dicevo, massima massima prudenza, ma c'è un'idea, attenzione a quello che vi dico, c'è un'idea, non vi dico giocherà contro, c'è un'idea di tentare di metterlo in campo per il match contro l'Atalanta, senza rischiare nulla. Ho detto, c'è un'idea, una ipotesi potrebbe essere quella di Milano-Atalanta di domenica, non questa l'altra, mi sembra che sia il 26 febbraio. Questa potrebbe essere l'ipotesi, al Milan non si fanno calcoli, al Milan non vogliono, come la prima volta avevano detto se è fatto male il 18 settembre puntiamo a Milan-Monza del 23 ottobre. Qua invece non si punta nulla, si vede di giorno in giorno. L'idea, ripeto, l'idea è quello di poterlo schierare in campo contro l'Atalanta. La settimana prossima, in questo senso, sarà la settimana decisiva per capire se il giocatore potrà essere impiegato o meno. Non si rischia nulla, non si rischia assolutamente nulla, però vedremo. Non serviranno grandi allenamenti una volta che il giocatore si sente pronto di gamba e di testa, non serviranno grandi allenamenti. Quindi quando il giocatore incomincia allenamenti provanti esplosivi, poi non servono magari le due settimane per andare in condizione. No, quando sarà pronto andrà. Il titolo del video è Idea Atalanta. Idea. Se poi la settimana prossima possa nascere ancora qualche problema, si rimanderà con la Fiorentina, eccetera, eccetera, eccetera. Verrà in campo, verrà schierato in campo quando sarà pronto. Però Idea Atalanta oggi ha un senso. Per quello che riguarda invece i giocatori che sono candidati a rientrare, Benasser e Tomori, oggi non si può dire molto. Perché non si può dire molto? Non si può dire molto perché i giocatori hanno effettuato oggi una preparazione personalizzata a tutti, cioè degli esercizi a gruppi, quindi non c'è stata la partitella qualcuno dentro, qualcuno fuori. C'è stata una preparazione particolare, personalizzata. C'è sempre la candidatura di Tomori un pochino più, diciamo, più vicina a essere schierato contro, o perlomeno a essere a disposizione contro il Monza, Tomori rispetto a Benasser. Benasser sembra ancora un po' prematuro, altro giocatore che servirà al massimo della condizione come il Tomori e come gli altri nel match contro l'Atalanta. Contro il Monza il Milan cercherà di mettere in campo i giocatori, diciamo, che stanno bene fisicamente. Quindi la formazione non dovrà essere molto lontana rispetto a quella che ha battuto il Tottenham. Potrebbe ritornare Calabria. Per quello che riguarda Teo, Cioccalulu bisogna vedere Chier, ma Chier quando si sente bene vuole giocare. Chiaro che poi decide Pioli, però Chier è un giocatore di carisma e che viene ascoltato dall'allenatore. Attenzione poi alla possibilità anche eventuale di cambiare qualcosa a centro campo, magari può risposare Krunic, non lo so. Dipende un pochettino dall'ultimo allenamento di domani per capire qualcosa. Domani c'è l'ultimo allenamento, poi c'è la conferenza stampa di Stefano Pioli e poi dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli avremo già delle idee un pochino più probanti circa la formazione. Voglio aprire una parentesi su Leao. È stato indicato come il migliore in campo contro il Tottenham. Su Leao faccio un ragionamento però. Il giocatore indubbiamente si è sacrificato e è andato a recuperare un paio di palloni importanti. Però io non l'ho messo in campo fra i migliori. Però io vorrei qualcosa in più da Leao. Scusate ce lo diciamo, vorrei dei tiri dal limite più efficaci, vorrei dei dribbling centrali più efficaci, più tentati, più continui. Quindi ripeto, io sono sempre sul carro di Leao. Dopo quello che mi ha regalato le emozioni non scendo e non scenderò mai. Però per essere Leao fuori classe deve certamente essere più incisivo, più mortifero come qualcuno ha detto. Qualcuno mi ha detto tra la differenza tra Mbappé e Leao è che Mbappé anche in allenamento è micidiale. È un giocatore formidabile nella conclusione, attaccato al gol. Leao in questo senso forse lo è meno. Quando si presenta solo davanti al portiere e con il suo sorriso poi la mette in porta. Però da Leao io vorrei qualcosa di più. Ve lo dico sinceramente, non qualcosa di più. Il Leao dell'anno scorso che nell'ultimo mese, il Leao della stagione scorsa, del finale della stagione scorsa, che nell'ultimo mese non abbiamo visto. Metterlo in MVP della partita mi è sembrato un po' eccessivo. Qualche dribbling, qualche finezza, qualche fuga. È lui che ha messo la palla per Ciò, che poi ha colpito la palla e terminata fuori. A proposito, domani vi metto il soprannome di Ciò. Mi piace molto, mi dà proprio l'impressione dell'irresistibilità. Mi piace molto. E dicevo, da Leao però vorrei qualcosina in più. Quello, per esempio, che invece non vorrei da Giroud, perché in questo momento Giroud sta dando tutto quello che ha. A livello di qualità, a livello di quantità, a livello di spirito di sacrificio, a livello di gol. Un giocatore che mi tengo stretto, stretto, stretto. Ma mi tengo stretto, stretto, stretto. Perché è un leader, è una guida ed è un giocatore di straordinario spessore. L'altra domanda è, ma a Bergamo, scusate, a Monza, e poi magari il debutto a San Siro contro l'Atalanta, a Monza potrebbe esserci un po' di spazio anche per Zlatan Ibrahimovic? Vediamo, vediamo gli ultimi allenamenti. Certo Zlatan Ibrahimovic sapeva di avere poco nelle gambe, ce l'aveva detto anche l'allenatore Pioli, prima del match contro il Torino. Adesso però ha un'altra settimana di lavoro regolare. Ieri ho visto realizzare un bellissimo gol nella partitella, tre tempi da 25 contro l'Under 18 e ci auguriamo che Zlatan Ibrahimovic possa rubare qualche minuto contro il Monza. Insomma, idea Atalanta-Megnan, Ibra pronto a rientrare, Benasser contro l'Atalanta, Tomori vediamo, incominciano ad arrivare, incominciano ad arrivare e se arrivano questi giocatori ci sentiamo più forti, ci sentiamo molto più forti. Sono contento delle parole di Gerry Cardinale nei confronti di Pioli, un allenatore che Gerry Cardinale stima molto. Mi auguro che Pioli chiuda la stagione come l'ha iniziata, cioè in maniera brillante. Attenzione perché il lavoro di Pioli anche sul piano del schema e del modulo è stato un lavoro molto importante, molto coraggioso, molto difficile da in quella situazione dove era il Milan, però è stato ancora una volta molto avveduto. Ha capito cosa c'era da fare per ricompattare la squadra, ha messo il 3-5-2 che non ha funzionato ma per questione di atteggiamento, poi ha messo invece il 3-4-3 che sembra funzionare bene, ma signori funziona bene perché avete visto giocare Teo come mai a gennaio, Seleme Kers come mai a gennaio, Tonali come non sempre a gennaio, Giroud sempre, lo stesso Diaz ha giocato bene, la difesa Calullo è stato il primo a iniziare, Chi era ha giocato la migliore partita, Tatarusano appare più sicuro, chiaro che poi puoi mettere anche l'1-1-1, il 10-10-10, non è più un problema perché la squadra risponde. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelegatti, attivate la campanella, scaricate dal link in descrizione all'applicazione numero 10, Idea Atalanta e finirà anche l'incubo Mignani.